Cosa avete portato come novità nel nuovo catalogo? Abbiamo portato molti prodotti nuovi in tutte le categorie di prodotto, ma soprattutto una filosofia nuova che è tentare di dare più personalizzazione ai prodotti per tutti i parrucchieri. Quindi una scelta molto più ampia nelle colorazioni, per esempio, dei legni, una scelta molto più ampia nel decidere quali piani andranno a comporre gli specchi come questi. Quindi cercare di rendere un prodotto industriale quanto più possibile su misura. Questo è stato lo sforzo che ci siamo posti per andare incontro alle esigenze dei parrucchieri moderni e del mercato moderno. Come prodotti abbiamo introdotto una decina di nuove poltrone, una decina di nuove mensole, lavaggi, azionamenti nuovi nei massaggi. Quindi una serie completa di prodotti per coprire, ripeto, le esigenze che si pongono giorno dopo giorno in un mercato in continuo cambiamento.